Grazie 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 Il pattern delle relazioni e delle comunicazioni è lo stesso. C'è uno dei standard, c'è un appartamento, tutti conoscete uno standard migliore che ha dotato. I membri si preoccupano di proporre il loro standard, di proporre le loro appliance, che non supportiamo uno standard, eccetera eccetera. Poi nelle tecniche di scuola design, nel servizio, nel progetto di scuola di poter portare in produzione, che non arriva nel live operation. Tutta questa catena ha mediamente dei tempi che vanno dai 5 ai 7 anni per portare in produzione i servizi di telecomunicazione. Quindi sono sulle parti tecniche che in questo raggiamento hanno tantissimo tempo a modificare il loro servizio. Nel 2000, più o meno, diciamo, dal 2010, che succederà, ci fanno un bel impone. No? E' un assoluto apposta, no? Immagino un salto piatto che una volta qualcuno dice, l'auto non muore. Insomma... Cos'è tale? L'utilizzo però era tale. Arrivano al numero dei campi fortunati della telecomunicazione. Perché? Skype, WhatsApp, Facebook, Google Fire, Netflix, iniziano ad occupare completamente il mercato di telecomunicazione, no? Cioè, ho messo in solo un caso particolarmente rilevante, WhatsApp, con 32 privatori, riesce a gestire un sistema di messaggistica con 500 milioni di utenze, mentre tutte le tecniche del mondo, gli SMS, non facevano neanche la metà di cui i numeri al giorno, no? E quindi questo è significativo. Cioè, in una piccola azienda, che poi viene tenuta a un percorso con 19 milioni di euro, non nel parco di una solidarietà, ma con un prezzo sorbitante, affetto, riesce a mettere in difficoltà tutto quel mega barato che sta dietro al telco. E allora il telco iniziano a preoccuparsi, e iniziano a dire con cosa facciamo. E cosa fa? Ci sono due fattori importanti da tenere in considerazione in questo scenario. Il primo è che, appunto, la complessità tecnologica, quello che, generalmente, le aziende del pubblico hanno messo anche i simbieri, è particolarmente elevato, sia dal punto di vista proprio tecnologico, sia dal punto di vista operativo. Cioè, per, diciamo, di fare poi un nuovo apparato che mi dava sempre in una particolare zona, ci vuole del tempo, che è l'operazione di costa, e forse manca anche il primo anno, rispetto a quella particolare line, quel particolare vendor, quindi non ci vuole tanto tempo. e quindi tutte queste difficoltà vanno superate e inizia a esserci una spinta importante da parte, diciamo, dell'intelligenza, dell'intelligenza del telco per avere una variante. Nel frattempo, un'altra parte, cioè, tutti, le grossi, diciamo, le grosse aziende di artigli, no? di Google, Facebook, eccetera, hanno, trovano un'altra difficoltà, ma il frattempo sono scoppiato, cioè, perché loro iniziano a fare rada da padroni soprattutto sulla scena. E, però, iniziano a avere delle difficoltà anche loro. Quali sono le loro difficoltà? che hanno sviluppato dei paradigmi molto interessanti, che sono dei paradigmi mentali, che, però, che nessuno conosce. Perfino, quando assumono qualcuno, hanno bisogno di, almeno, sei mesi di trend per fargli capire la complessità del sistema e il nuovo paradigmo amplice all'interno. E questo, all'inizio, era un grosso vantaggio competitivo perché gli ha permesso di avere altissima scala di imparare, e, però, alla lunga, non è più un vantaggio competitivo perché, non solo ho vinto su una discussione del sistema, nella fase di assunzione, ma devono preoccuparsi di fare la prossima, ma soprattutto perché gli utenti, non hanno, come dire, non percepiscono assolutamente quali sono i vantaggi del paradigma che lo sanno che non è. E, se vi ricordate, vedi, riuscire. Tanto, molto prima di tutto questo live, che ci ritornano al cloud, e non è che abbia un grande successo, no? Perché nessuno aveva capito come utilizzare, come scrivere le loro applicazioni pensando in una maniera breve. Cos'è che fanno allora? Iniziano a rilasciare, alla guida, una serie di proof of course, che spiegano, perché e come queste parole non possono essere. Tant'è che non hanno portato solo un esempio di canale, in qualche caso arrivano da Google, e che sono Kubernetes e 5 metros, no? E, loro, per esempio, in un caso è uno schermo, in un altro caso è un sistema di monitoring. Ora, non è che necessariamente, volontariamente lo fanno. Bene o male, iniziano ad uscire di un certo paradigma all'interno di queste cose che si diffondono. Questa, diciamo, è una mia, la mia profezione. Lo fanno volontariamente, proprio per diffondere, no? Un paradigma che hanno, che hanno, suoi dati. E, intanto, le testo sono sempre libri. Sono sempre libri, diciamo, un dashboard dedicato per il firewall, diciamo, un art dedicato per, per il TNS e così via. e più tutti i meccanismi complicanti per gestire le operazioni, no? Però l'auto non è un data center che viene fatto l'inventare, c'è già tutta una serie di complicazioni indebili dal punto di vista delle operazioni che continuano a migliorare con l'idea. quindi, cosa c'entra lì? Il Linux è in realtà è l'assunzione. Non solo Linux, però una serie di Linux insieme a attaccare il software, per il software, inizia ad essere l'assunzione. Perché? In questo caso, l'inventare, l'assenza di licenze e il know-how che deriva, diciamo, da queste tecnologie, il know-how diffuso che deriva da queste tecnologie, inizia a far pensare ad un nuovo modello alle aziende delle operazioni. Qual è il nuovo modello? perché noi non si potrebbe fare la stessa. Potremmo utilizzare tutti quanti lo spesso hardware, tutti quanti la stessa piattaforma, la stessa infrastruttura e quindi disapropiare l'infrastruttura, quelle che sono le applicazioni. Anche le applicazioni tecniche. Io qui non mi riferisco tanto male ai siti di la web, ma appunto l'intero sistema di segnalizzare tutti i servizi di telefonia dalla sapriteria telefonica che risponde sullo stesso telefono, gli MMS, gli SMS e tutto quel sistema comunicato che è tuttora in funzione e che permette di utilizzare un'infrastruttura. Si potrebbe virtualizzare e far girare sull'infrastruttura comune se non ci faccio, non faccio tutto il resto. La risposta è ma poi quella di sì. Sì, perché? Perché questo è un'infrastruttura che si può essere tantissimo che possono essere spettere di avere cose dedicate a fare la convergenza delle reti su tutta quanta su IP e trattare tutto lo stesso modo, che sia il sito web o... chiaramente il sito semplificato però, che sia il sito web o l'applicazione per il cellulare che non è la vostra attenzione, ma quella che è all'interno della vita semplificata. cosa si succede? E' il sito, che è probabilmente la stabilizzazione è davvero, decide che nuovamente a quello che restava diciamo, la clarificazione che stava avendo andava data di struttura, andava data di un nuovo. E quindi i criteri, diciamo, riapplicano la contentità geometristica per cercare di dare una struttura a tutto il caos che si era creato e che si era creato e che tutto ora esiste all'interno del mondo dell'intera virtualizzazione e dell'editario. E quindi questo questo è un modello che non mi sto a spiegare, 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 è un modello che spiega come le applicazioni nel mondo tecnico possono essere virtualizzate e gestite in maniera a diciamo comune quindi tutti i vendors potranno preoccupare di scrivere le applicazioni che hanno determinato il testo e ciò standard continuano nel processo. Nel frattempo cosa succede? I vendors sono non è che siano altrettanto veloci ma soprattutto per il grosso però si muovano allo stesso tempo e anche qui Linux ritorna a essere il punto sociale di tutta la la storia dell'euro e tutto quanto inizia girare il mondo una data center il data center diventa il fulcro di tutte le applicazioni anche se viene diciamo disoccupiato la necessità solo di avere risorse di calcolo e quindi si concentrano a produrre architetture le santo codi per poter gestire la riferimento in particolare in particolare questo si cercare di darvi un'idea però la prima è che lo scambio di installare il sistema operativo sugli apparati di ete per poter interagire con la parata di ete l'altra rispettina è che sono sostanzialmente rischi che significano che la etica può essere utilizzata se ci sono evidente che non c'è tanto aiuto il significato della della storia che sostanzialmente consentono ai tradizionali di poter entrare dei piano di controllo dell'apparata di ete è un elemento che non è nuovissimo però su larga scala non si è ormai rifiutato e gli esempi sono i punti snap come lo sai strano il sistema operativo del rilasceramento del sistema operativo del S10 per passare giù inizialmente decidono di usare 100 S che forse si possa sfruttare e anche che di nuovo riappare però in maniera portata nella migrazione soprattutto dell'energia e il motivo quale? motivo fondamentalmente uno motivo è che la gestione degli apparati e tutta la parte di operazione sui apparati era uno dei principali motivi e dei problemi nell'interno del dataset e quindi dicono ma se io potessi gestire i miei apparati di rete nello stesso modo che io gestisco i miei server tutto diventa più semplice l'automazione è la nostra quindi devo aspettare standard che arrivano da questo da quell'altra pelle e Linux bene o male indipendentemente della distribuzione sono come trattare questo perché sono i viaggi di velocità di cambio di configurazione intendo il dataset proprio per poter costruire quelle varie di disappoppiare l'infrastruttura dal da tutta la parte dell'interno e la velocità costruire che introduce l'altro grosso problema che purtroppo Linux in questo caso in realtà contribuisce ma non può essere la soluzione che sono proprio le migliori cresci che soprattutto non hai detto che sono difficili da organizzare e di mantenere e sono principali posti e però le soluzioni arrivano dall'industria cioè da chi questi problemi va affrontati però rimando al di là di tutte diciamo anche qui metodi che si si rimangono uno degli aspetti più meno diffusi cioè la gestione delle operation all'interno di compagnetti rappresenta il vantaggio che ha la gestione cioè secondo me è bravo la gestione di queste cose ha un vantaggio quindi non c'è tanta diffusione su questi aspetti però dov'è che arriva diciamo la competenza dal mondo perché il mondo diciamo open source è sempre stato intituato a introdurre piccoli cambiamenti in poco tempo quindi a mantenere le infrastrutture aggiornate e soprattutto il principale diciamo obiettivo o comunque principale preoccupazione dire non importa cioè su una grande scala non importa avere no tanti piccoli server quindi devo prendere cura una famosa esercitazione dice non sono i misericordi non sono animali imparcati ma non sono animali domestici e devono essere vacche e perché perché io non ho tante delle stesse queste cose e questo punto se qui è in realtà ottiene sempre dall'ambito tampone di risorse e si trova ha trovato chiaramente la sua espansione dei grossi dei grossi aziende ora è finita no? nel senso che Linux è riuscito a come dire ancora una volta in questa volta in maniera più importante a entrare in questo in questo in questo particolare inutile di diciamo un mondo delle telecomunicazioni e è evoluzionale essere il principale asset non nelle principali asset dello sviluppo delle telecomunicazioni però il vero problema è che tutto ciò in realtà a un minuto si era portato a a di vendolo o comunque eterico semplicemente a prendere quelle private loro semplicemente hanno avuto un hardware di amore all'interno di macchine virtuale e questo veramente non è un campo di paradigma a un certo modo cioè un'interpretazione sbagliata di quello che è il paradigma del trauco e questo è il non ho detto trauco però è quello di capo di studi e questo è uno principale che rimangono quindi in realtà non è stata ancora perciò che è il campo di parametroni che è proposto da tutto che si conosce però diciamo che è un po' il mio gole questo numero che è il punto se non scavo uno ma non è un video grazie a tutti ho usato l'inus prima non è l'8 l'inus ma l'8 ma è fortunatamente a quel tempo usato e in generale sono riusciti ancora una volta a rivoluzionare il mondo di questo lo stanno diciamo siamo sempre in una fase in cui tutto ciò viene il risultato e facciamo la produzione i servizi di produzione con questi sono veramente pochi che non arrivano ancora effettivamente dal terzo del campo ci sono altre sfide come dicevo prima non basta non basta più parlare di un consorso bisogna non basta più parlare che bisogna iniziare a se ho specificato uno strumento come fatto come lo posso realizzare in realtà il livello successivo della stazione che cosa serve con questo strumento rimane oggetto di non funzioni cioè non che cosa serve è chiaro che che sarebbe importante anche diffondere a quelle che sono le lezioni imparate da tutta questa norma che si generano all'interno degli Stati che è speculativo così come la gestione quali sono le strati che è troppo veloce non lo so quindi sarete male di se non vi 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 vi